All'angolo blu della palestra dei gym accompagnato dal maestro Cal Solani al peso di 67.700 al suo tipo 3 match di cui 3 vinti Chiara Giusti La sua avversaria, l'angelo rosso, è una campionessa mondiale WACU nella palestra kick and punch di Piega Onele al suo angolo il maestro Angelo Valente al peso di 66.900 All'attimo 42 match, 30 vittorie, 18 sconfitte facciamo un applauso a Cristina Caluso all'angelo! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti